... ... ... ... ... ... Puoi pure lasciarlo da un'altra parte Si, se vuoi ti connetti qualcosa Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.